Mi strocchetta bellezza, città di Ventimiglia, seconda classificata questa sera è la signorina Sara Michale Al contrario Roberto Roberta Passarella per cortesia E mentre Sara fa Passarella per cortesia, scusami ti ho chiamato Roberta, io ringrazio tutto il pubblico che è presente I genitori, gli accompagnatori, i fidanzati eccetera Ringrazio ancora una volta le forze dell'ordine, ringrazio tutti gli operai del comune di Ventimiglia Ringrazio l'ufficio manifestazioni e ringrazio Danila che è la persona con cui ho sempre qualcosa a che fare E chiaramente ringraziando lei ringrazio tutto l'ufficio manifestazioni, ringrazio il dottor Bosio che non è presente questa sera ma so che ci sta pensando Ancora una volta un grazie soprattutto veramente, vorrei un applauso a tutti gli operai del comune di Ventimiglia Fatelo veramente col cuore perché poi alla fine sono loro che tutte le sere montano e smontano Per potervi fare comunque passare un'estate in allegria, in simpatia senza farvi spendere niente Perché ve lo ricordo ancora una volta, le manifestazioni che voi guardate e che mi auguro appreziate Sono a titolo gratuito per tutto il pubblico che sia di Ventimiglia o che vengono da turisti da fuori Quindi un applauso all'amministrazione comunale, credetemi non è facile, fate un bel applauso per favore